Il cardinal Lorenzo Baldisseri, che abbiamo l'onore di avere qui con noi, è il segretario generale del Sinodo dei Vescovi e a lui abbiamo chiesto di parlarci del sinodo e delle vie che sta percorrendo la Chiesa sul tema della famiglia. Nel 73 era entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede e nel 92 è stato nominato da Papa Giovanni Paolo II nunzio apostolico in vari posti, ad Haiti, in Paraguay, in India, in Nepal e poi ancora nell'America Latina, in Brasile. Quindi ascoltiamolo su questo tema, le linee pastorali emergenti dal sinodo straordinario della famiglia. Ecco però se permette vorrei che mi togliesse una curiosità, un mio amico giornalista mi ha parlato di uno scambio di zucchetti con Papa Francesco e dato che io non mi fido dei giornalisti vorrei la versione autentica, anche perché lui dei giornalisti si fida perché recentemente ha raccolto in un libro appena uscito, Teologia e Storia, gli scritti comparsi sull'osservatore romano di De Felice. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito vorrei salutare prima di tutto il signor Monetti che mi ha invitato a questo incontro e poi salutare tutti i vescovi presenti, i sacerdoti, i responsabili e gli organizzatori. Devo dare subito la risposta alla domanda. Beh c'è stato sì uno scambio, diciamo che lo scambio è il Papa eletto che l'ha fatto, non io perché chiaro io ero diciamo il termine al quale il Papa si è rivolto, cioè al riferimento. Sì, dopo che il Papa è entrato nella stanza cosiddetta delle lacrime, questa era una battuta, ma in Cappella Sistina ci sono al fondo, proprio sotto giudizio universale, due porte guardando. Quella a sinistra la chiamano la porta che introduce nella stanza delle lacrime. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nuovo eletto entra in quella stanza e depone le vesti che ha e si pone invece le nuove vesti bianche. Sembra che nel passato lì c'era il pianto, insomma, non so, o di felice, o di allegria, o non so, o di sconforto. Ad ogni modo è uscito il Santo Padre da quella stanza vestito di bianco e a destra e a sinistra vi erano due cerimonieri e ho visto che uno dei due cerimonieri aveva un vassoio con uno zucchetto, che era il zucchetto rosso, non era bianco, il bianco l'aveva in testa. E allora, secondo la tradizione vaticana, che poi io conoscevo, ma ad età io ho detto c'è qualcosa di particolare. Allora è arrivato di fronte a tutti i cardinali, i quali hanno cominciato a sfilare per l'obbedienza ufficiale. Alla fine anch'io mi sono messo in fila, perché erano già entrati altri cardinali, il decano, eccetera. Mi metto anch'io in fila per salutarlo, senza fare obbedienza, perché non ero cardinale. E quando mi sono inginocchiato ha preso lo zucchetto che era sul vassoio e l'ha messo sul mio capo. Ecco, è successo questo. Quindi per me quello zucchetto di Papa Francesco ora è una reliquia, non è questo, certamente. Già è in una teca di ricordo. Bene, questo è accaduto. E dopo un anno sono stato creato un cardinale. E dall'abbraccio usuale, diciamo, che è rituale, il Papa mi ha detto, eh, l'ho fatto aspettare tanto, eh. Sì, questa è la battuta. Ebbene, con questa introduzione vorrei che iniziare a questa mia conferenza è veramente lieto di poter informare e dare quindi alcuni dettagli sopra il sinodo e anche i contenuti. Il tema che mi è stato assegnato è le linee pastorali emergenti dal sinodo straordinario per la famiglia. Inizio con il sinodo Un Nuovo Processo. Un Nuovo Processo. L'intuizione originaria di un nuovo processo sinodale viene da Papa Francesco sin dall'inizio del suo pontificato, quando si espresse a più riprese che desiderava un rinnovamento dell'istituzione. La prima novità è subito apparsa e che è quella del cammino sinodale in due tappe. L'Assemblea Generale straordinaria del 2014, che è stata già celebrata, e quella ordinaria del 2015, che sarà celebrata. Poi anche la scelta del tema, il tema sulla famiglia, che è stato individuato come l'urgenza pressante del momento proveniente dalla Chiesa e dalla società. Nel giugno 2013, appena tre mesi dopo l'inizio del pontificato, Papa Francesco parlava del tema della famiglia al segretario generale del sinodo dei Vescovi, era il mio predecessore, io non ero ancora nominato. E l'8 ottobre, già nominato segretario generale, lo convocava ufficialmente come terza Assemblea Generale straordinaria. Il sinodo è per sé un tempo forte, un kairos per tutta la Chiesa. Pastori e fedeli sono invitati a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo per realizzare la sinodalità. Papa Francesco la ritiene un elemento rilevante nella vita della Chiesa. E gli afferma nell'intervista alla civiltà cattolica del settembre 2013 che, cito, si deve camminare insieme la gente, i Vescovi e il Papa. La sinodalità va vissuta a vari livelli. Parla anche della missione del successore di Pietro di confermare nella fede di armonizzare primato con la collegialità e la sinodalità. E aggiungeva, dobbiamo andare per questa strada della sinodalità, crescere in armonia con il servizio del primato. Questo deve spingere a superare sempre ogni conflitto che ferisce il corpo della Chiesa. Uniti nelle differenze, non c'è altra strada cattolica per unirci. Questo è lo Spirito cattolico, lo Spirito cristiano, unirsi nelle differenze. Questa è la strada di Gesù. Il processo sinodale inaugurato da Papa Francesco costituisce una novità se guardiamo retroattivamente i suoi ormai 50 anni di storia. Noi celebreremo proprio in questo anno 50 anni della istituzione del sinodo che fu appunto istituita da parte di Paolo VI e durante i quali, questi 50 anni, vi è stata un'alternanza di accelerazione e di stasi. E l'iniziativa di rinnovamento non riguarda solamente il sinodo dei Vescovi, ma anche le altre istituzioni collegiali o sinodali come il concistoro, le riunioni dei capi di Castello della Curia Romana, l'istituzione del C8 più 1, C9, il Consiglio dei Cardinali per aiutare il Santo Padre nel Governo Universale della Chiesa e per la revisione della Pastor Bonus che è il documento statutario sulla Curia Romana e altre commissioni. La riforma sinodale è in atto e ha messo in movimento tutti i componenti della Chiesa, dal suo vertice alla sua base e viceversa, senza metterne in alcun modo in discussione la natura stessa del sinodo, che è un sinodo dei Vescovi, non è un sinodo di tutta la Chiesa, sì, sinodalità della Chiesa, ma un sinodo dei Vescovi, così è, istituzionalmente, i cui membri sono ecclesiastici con la partecipazione di uditori, delegati fraterni e altre confessioni cristiane. La consultazione è avvenuta su alta scala, a tutti i livelli, ed è stato un grande primo passo per la messa in opera di ciò che il Santo Padre nella citata intervista data la Civiltà Cattolica ha detto a proposito della sinodalità e in particolare del sinodo dei Vescovi, è venuto il tempo di cambiare la metodologia del sinodo, perché l'attuale pare statica. Di fatto è innegabile che l'attuale cammino sinodale già avanzato, siamo all'inizio della seconda tappa sinodale, ha dinamizzato l'istituzione stessa impegnando tutte le istanze della Chiesa. In questa dinamica la Chiesa come popolo di Dio è apparsa unita nella diversità dei carismi, dei doni e dei ministeri. È in questo contesto che occorre situare ciò che Papa Francesco ha affermato, a proposito del Ministero Petrino, come già ho annunciato prima, confermare e armonizzare nell'unità e nel servizio. E nella stessa direzione si colloca con l'espressione, la conversione pastorale, la sua volontà di rivedere e di riconsiderare l'esercizio del primato. A riguardo ha scritto nell'Evangelii Gaudium, il Papa, che deve come Vescovo di Roma rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del suo ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione. In questa prospettiva di conversione pastorale si pone l'attuale revisione del Sinodo dei Vescovi. essa si sta effettuando nella metodologia e in quegli aspetti strutturali che facilitano una migliore realizzazione della collegialità episcopale ed è un effettivo stimolo per un adempimento della sinodalità a tutti i livelli della Chiesa, quindi anche nelle diocesi, anche nelle parrocchie, nelle associazioni. Secondo punto, Assemblea Generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi che è stata celebrata dal 5 al 19 ottobre 2014. Voglio parlare di quello che è accaduto come nell'ultimo Sinodo. Con l'indizione l'8 ottobre 2013 della Terza Assemblea Generale straordinaria, così si chiama, sul tema le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, questo lo ricordate, è stato preparato appunto un documento preparatorio lineamente che includeva un questionario. Il documento, come è noto, è stato inviato a tutte le conferenze episcopali e ad altre istituzioni aventi diritto con lo scopo di coinvolgere il maggior numero di componenti della Chiesa. In questo spirito sinodale si è così ascoltato il popolo di Dio nella sua varietà di vescovi, presbiteri, diaconi, singoli fedeli, movimenti, associazioni. Tutti hanno manifestato il loro pensiero sulle questioni vive della famiglia nel nostro tempo. Le numerose risposte pervenute sono state incoraggiate da una parte dall'argomento del sinodo della famiglia, che tocca la vita pastorale delle comunità e della solicitudine che i vescovi da tanto tempo hanno verso la famiglia. Dall'altra ha contribuito lo spirito di libertà e di sincerità che sono state auspicate. Tutti si sono resi consapevoli che nella libertà cresce la comunione fraterna, si arricchisce il dibattito e si individuano le scelte pastorali adeguate per la famiglia di oggi. Essersi sentiti liberi ha mostrato la qualità dell'uomo capace di cercare la verità non come un concetto astratto, frutto di speculazione filosofico-teologica, ma come una persona, Cristo, uomo-Dio, uomo storico e figlio del Padre. È vero che anche i lineamenta, faccio un riferimento al passato, anche i lineamenta dei sinodi precedenti riportavano una serie di domande come un'inchiesta locale lasciata poi all'iniziativa dei vari conferenze episcopali e agli ordinari che dicevano. Ma la particolarità di quel documento, quel questionario che voi conoscete, è stato il fatto che appunto quel documento là è stato diffuso capillarmente in tutte le istituzioni ecclesiali. Almeno questa è stata l'intenzione e noi abbiamo verificato che effettivamente c'è stata una grande maggioranza. Ecco, si va al di là, diciamo, del 60-70% che è stato effettuato questo, perché a noi ci interessava questo. La Chiesa nel suo insieme, dal vertice alla più remota parrocchia, si è interrogata e ha cercato di rispondere in forza delle loro diverse realtà vissute. L'iniziativa poi di Papa Francesco intesa di interessare sul tema sinodale perfino i cardinali riuniti in concistore del febbraio 2014. E beh, ieri abbiamo avuto già la notizia del nuovo concistore, dei nuovi cardinali. L'anno scorso, del febbraio, con la relazione del cardinale Walter Kasper, ha contribuito ad aumentare l'interesse e ad accendere un dibattito senza precedenti e di vasta scala, voi vi ricordate, ed accelerare l'approfondimento dentro e fuori della Chiesa sulle tematiche sottese al tema della famiglia. L'abbondante materiale di risposta giunto in segreteria generale nel mese di febbraio del 2013 è stato sintetizzato nell'istrumento un laboris o documento di lavoro nel maggio del 2014. Il testo del documento è stato poi reso pubblico in una conferenza stampa nel giugno passato del 2014. L'istrumento un laboris è stato inviato, a quel tempo, ai partecipanti dell'assemblea sinodale nel mese di luglio dell'anno scorso, in maniera che fosse nelle loro mani durante i lavori di ottobre. L'assemblea generale straordinaria si è aperta il 5 ottobre, ma il Papa aveva organizzato, cioè è stata organizzata, il Papa è intervenuto alla vigilia del 4 ottobre, una veglia di preghiera. E lì il Papa ha pronunciato un bellissimo discorso introduttivo al sinodo. Il giorno seguente, il 6, ha avuto inizio, dunque il 5 poi c'è stata la grande celebrazione eucaristica in piazza San Pietro, quindi ci sono due momenti, 4 la veglia, il 5 è stata la celebrazione del Santo Padre, anche lì il Papa, la prima veglia ha un discorso della celebrazione eucaristica, un'omelia. Poi il Papa ha parlato anche il giorno seguente, quando sono iniziati i lavori e quindi ha introdotto i lavori con un discorso. Poi c'è stata la lettura del relazio del segretario generale, cioè la mia. E poi un'altra relazio, la lettura del relazio, antediceptazione, vuol dire che è quella che è prima dell'intervento in aula dei padri sinodali, prima. Faceva un po' una presentazione dell'istrumento in labori di tutta la tematica. Allora, questa relazio antediceptazione, redatta naturalmente sull'istrumento in laboris, già pubblicato e nelle mani dei partecipanti del sinodo, e anche notate degli interventi dei padri sinodali raccolti in antecedenza della segreteria. Questo lo voglio dire perché è una novità. Che i padri sinodali intervenuti hanno prima inviato alla segreteria generale il loro intervento, che era ampio, eccetera. Chiedendo loro naturalmente durante il sinodo stesso, che potessero fare una sintesi, dire quello che è. A noi interessava, come segreteria generale, avere prima i testi perché questa relazio antediceptazione, di presentazione doveva includere, non volevamo inventare noi o qualche cosa, proporre noi secondo i nostri criteri, ma avere come base questa documentazione e poter essere quindi più obiettivi e più oggettivi sulla presentazione stessa del dibattito che ha seguito. Quindi, ecco, noi abbiamo fatto questo lavoro, poi è stato lanciato, questa relazione è stata lanciata, ha lanciato il dibattito in aula, punteggiando i temi più importanti e sensibili secondo l'ordine tematico stabilito. Anche la fase successiva, quella degli interventi in aula, sono stati quattro giorni di interventi, i padri sono intervenuti uno dopo l'altro, quattro minuti soli abbiamo dato, perché non c'era tempo, ma in quattro minuti dovevano dire tutto, ecco, quello che loro volevano, si può fare, si può fare. E quindi quattro minuti. E io ricordo che quando si è arrivato alla fine, dato che è stato preciso, il Papa mi ha detto, ma lei è proprio un orologio svizzero. Beh, siamo riusciti a far parlare tutti nel tempo dovuto. Quindi sia l'instrumentum laboris che la relation anti-discepitazione sottolineavano le diverse sfide pastorali sulla famiglia da affrontare con urgenza. E qui c'è l'elenco, sommariamente, che voi già le conoscete, ma io vorrei ripresentare. Promuovere, favorire e promuovere una serie di preparazioni al sacramento del matrimonio e un rinnovato sostegno della spiritualità familiare, perché diventino una testimonianza credibile e attraente della bellezza della vita familiare. Poi, quella di fronte a situazioni che richiedono un'azione pastorale nella crisi di fede e della vita familiare. Queste possono essere derivate da situazioni critiche interne alla famiglia, come per esempio difficoltà di relazione, di comunicazione all'interno della famiglia, frammentazione e disgregazione, violenza, quante casi noi abbiamo di violenza in famiglia, abuso di tutti i generi, dipendenze di media, di social network, o da pressione esterna alla famiglia, come l'attività lavorativa, quando i coniugi lavorano tutti e due e quindi in casa, chi guarda i figli e tutte queste problematiche. Il fenomeno migratorio, immaginate, ogni giorno conosciamo questo fenomeno. La povertà, la lotta per la sussistenza anche, in certi paesi, in certe regioni. Il consumismo, l'individualismo, le aspettative sociali sull'individuo, l'impatto delle guerre, della disparità di culto, eccetera. Poi le sfide dinanzi a situazioni pastorali difficili derivanti dalle convivenze, l'unione di fatto, i separati, i divorziati, i divorziati degli sposati, i figli e coloro che restano soli, le ragazze madri. Poi i casi circa l'irregolarità canonica, l'accesso ai sacramenti, l'unione tra persone dello stesso sesso, con la relativa questione della trasmissione della fede ai bambini. Infine, non di minore importanza, sono le sfide pastorali circa l'apertura alla vita e circa la responsabilità educativa della famiglia oggi. Questo è un po' riassunto dell'istrumento laboris e che poi anche la relazio, che è stata pronunciata dal relatore principale, riassumeva. Questi due documenti, insomma, potremmo dire questa relazio, al fine di rispondere adeguatamente a queste sfide esistenziali familiari, ha riportato la dottrina della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia e ha posto l'annuncio del Vangelo della famiglia riferendosi a testi magisteriali come la Gaudium Espes del Concilio Vaticano II, la Familiaris Consorzio di San Giovanni Paolo II, chiamato dal Papa Francesco Papa della Famiglia, il Catechismo della Chiesa Cattolica, eccetera. La famiglia oggi non è solo oggetto di evangelizzazione, come si considerava prevalentemente nel passato, ma anche soggetto primario nell'annuncio della buona novella di Cristo nel mondo. Ne deriva la necessità dell'incessante comprensione e attualizzazione del Vangelo della famiglia che lo Spirito Santo ispira alla Chiesa. Le problematiche familiari, anche le più gravi, sono oggi viste come un segno dei tempi, da discernere alla luce del Vangelo e da leggere con gli occhi e il cuore di Gesù e con il suo sguardo in casa di Simone il Fariseo. L'annuncio quindi si articola come proposta, dialogo e cammino insieme. Come dice il Beato Paolo VI nella sua magisteriale esortazione apostolica e Vangeli in Unziandi, e cito qui, è assolutamente necessario metterci di fronte ad un patrimonio di fede che la Chiesa ha il dovere di preservare nella sua purezza intangibile, ma anche di presentare agli uomini del nostro tempo, per quanto possibile, in modo comprensibile e persuasivo. Trascorsa la prima settimana dell'Assemblea, vedete che sto raccontando un po' quello che è accaduto, trascorsa la prima settimana ha avuto luogo la lettura della relazio post disceptazione, cioè sarebbe la sintesi degli interventi insieme alla base del documento iniziale, che era strumento di lavoro, ma la sintesi, di tutto il lavoro compiuto, quindi fino a quel momento. Il documento è passato poi ai circoli menores, anche voi so che nel pomeriggio fate delle riunioni, quindi che è importantissimo, anche i padri sinodali hanno fatto questo, che è necessario, dove i padri sinodali hanno lavorato per le valutazioni, le integrazioni, i suggerimenti espressi attraverso i modi, dovevano scrivere, che sono stati inseriti poi nel testo e in questo testo è diventato la relazio sinodi, cioè la relazione finale, il documento finale, che è stato approvato in Assemblea il sabato 18 ottobre 2014. Il senodale si è concluso la domenica, il 19, ma già il sabato sera tutto era terminato pronto. Questo lavoro sinodale è stato caratterizzato, ve lo dico, da un animato dibattito, anche i giornali ne hanno parlato assai, dibattito, specialmente in seno ai circoli menores, dove, insomma in questi gruppi di studio, dove si sono viste posizioni contrastanti e ricche di spunti validi per l'approfondimento delle tematiche, specialmente le più sensibili, quali quelle riguardanti alle convivenze, matrimoni civili, divorziati, comunione spirituale e sacramentale, divorziati e sposati, nonché, e soprattutto direi, c'è stata una presentazione molto accurata e rilevante circa l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e la famiglia. Il Santo Padre ha concluso i lavori con un discorso di pontificato, questo si deve dire, di alto profilo. Egli ha detto, abbiamo vissuto davvero un'esperienza di sinodo, un percorso solidale, sono le sue parole, un cammino insieme, momenti di consolazione e di grazia e di conforto, ascoltando le testimonianze delle famiglie che hanno partecipato al sinodo e hanno condiviso con noi la bellezza e la gioia della loro vita matrimoniale. E continua. Egli ha continuato così dicendo, è stato un cammino dove il più forte si è sentito in dovere di aiutare il meno forte, dove il più esperto si è prestato a servire gli altri, anche attraverso i confronti. e poiché essendo un cammino di uomini, con le consolazioni ci sono stati anche momenti di desolazione, di tensione e di tentazioni. Poi ha parlato delle tentazioni e ne ha individuate cinque tentazioni, che sono le seguenti. Tentazione dell'irrigidimento ostile, tentazione del buonismo distruttivo, la tentazione di trasformare la pietra in pane, la tentazione di scendere dalla croce, la tentazione di trascurare il deposito infidei con la tentazione di trascurare la realtà. L'Assemblea ha pure approvato il messaggio alle famiglie. Un alto invito a vivere il Vangelo della famiglia e ad assumere le sfide sulla famiglia come occasione propizia di riflessione profonda e di servizio nella Chiesa e nella società, chinandosi sulle ferite e sui drammi familiari come il samaritano alla scuola di Gesù misericordioso. E ora vorrei parlare della relazio sinodi, cioè del documento finale. Questa relazio sinodi, la chiamo sempre così in termine latino, si articola in tre parti. L'ascolto, cioè il contesto e le sfide sulla famiglia, lo sguardo su Gesù, il Vangelo della famiglia, il confronto, prospettive pastorali. A questo riguardo la struttura del documento è piuttosto innovativa, forse per voi non è che l'avete percepito, ma è interessante perché è la prima volta che si utilizza il metodo classico dei documenti dell'America Latina. In Europa si parte sempre dall'alto, dalla dottrina e poi si giudica, naturalmente poi si passa al fenomeno e poi si hanno le conclusioni, cioè le linee direttive. In America Latina, dove io sono stato per vent'anni intercalando in vari differenti paesi, da Guatemala, Caribe, Haiti, Brasile, eccetera, è ormai da 50 anni e più che si parte dal vedere, cioè quello che esiste, dalla realtà. Poi questa realtà viene giudicata nel senso che viene vista da un punto di vista di fede, dalla nostra fede cristiana, quindi viene giudicata dal Vangelo. E in questo confronto delle due realtà, della realtà e della fede, avviene la terza parte, l'agire, le linee pastorali. E posso dirvi che all'interno del sinodo, nei circoli menores, questo è stato discusso, perché c'era una posizione abbastanza forte su quello di rimaniamo sempre... Bene, è prevalso quello che il Papa aveva già indicato lui stesso, perché se voi andate a vedere il discorso che ha proferito il Papa all'inizio, proprio quel discorso di cui parlavo prima, effettivamente parla appunto di questo, dell'ascolto, del confronto, dell'ascolto, dello sguardo e del confronto. Sono altre parole che dicono vedere, giudicare e agire. Questo è il metodo che è stato adottato. Pertanto è interessante sapere che il Papa, quando era Arcivescovo Bergoglio in America Latina, quindi a Buenos Aires, è stato il protagonista della redazione del documento di Aparecida, cosiddetto. Il documento di Aparecida è il frutto della quinta conferenza dei vescovi latinoamericani e del Caribe, che ha prodotto appunto questo documento e che si chiama di Aparecida perché celebrata del santuario di Aparecida in Brasile. Bergoglio a quel tempo faceva parte, anzi era il Presidente della Commissione, di redazione finale del documento. E molti si riferiscono a questo documento anche nel vedere le prospettive, la maniera in cui il Papa attuale sta realizzando il suo programma, il suo programma pastorale. Dunque, è diviso in tre parti il documento alla relazio signodi e comprendono 62 numeri o paragrafi che abbracciano l'insieme delle questioni problematiche e anche le più scottanti sulla famiglia. La prima parte riguarda l'ascolto diviso in tre capitoli, il contesto socio-culturale della famiglia, la rilevanza della vita affettiva e la sfida pastorale. Chi desidera avere poi maggiori dettagli può andare a vedere anche l'istrumento di un labore che in varie parti si trovano questi elementi. La seconda parte concerne il Vangelo della famiglia. Ecco, quello che la fede nostra dice sulla famiglia, il Vangelo della famiglia, che si articola a sua volta in sottotitoli lo sguardo su Gesù e la pedagogia divina nella storia della salvezza, la famiglia nel disegno salvifico di Dio, la famiglia nei documenti della Chiesa, l'indissolubilità del matrimonio e la gioia di vivere insieme. Questa parte è stata quella più elaborata, questa parte, seconda parte, è stata elaborata molto dai circoli minori, si è ritenuta la più lacunosa nella relazione post-discepitazione, con il risultato di un testo veramente di grande spessore, da un punto di vista dottrinale, trattando della famiglia, e che sostiene veramente l'impianto stesso del documento. La terza parte riporta il confronto, cioè quelli che sono i grandi problemi e come affrontarli pastoralmente. Si tratta di prospettive, si tratta di prospettive e non di linee pastorali. Il Sir Bonetti mi ha dato il tema delle linee pastorali, quelle non posso darle, le daranno i padri sinodali quando si riuniranno nel mese d'ottobre. Però le prospettive, sì, questo è importante, che saranno invece appunto proposte. Le sottivisioni di questa terza parte abbracciano l'insieme delle questioni, comprese quelle più cocentiche, sulla famiglia di oggi. Esse sono annunciare il Vangelo della famiglia nei vari contesti, guidare i nubendi nel cammino di preparazione al matrimonio, accompagnare i primi anni di vita matrimoniale, poi la cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio civile o in convivenze, curare le famiglie ferite, e qui si ritorna ai temi separati, divorziati, divorziati e sposati, famiglie monoparentali, l'attenzione pastorale verso le persone con tendenza omosessuale, la trasmissione della vita e la sfida della denatalità, la sfida dell'educazione e il ruolo della famiglia nell'evangelizzazione. Questa parte del documento è stata lungamente dibattuta nei circoli minores per le questioni molto sensibili sul piano pastorale. E devo dire che erano passati 33 anni dalla familiare sconsorzio, sono passati 33 anni dalla familiare sconsorzio e che aveva abordato gli stessi temi con molta sagacità, autorevolezza in quel tempo, le cui proposizioni, voi sapete, erano state presentate a Giovanni Paolo II e lui poi ha pubblicato l'esortazione familiare sconsorzio. Ma nel frattempo di questi anni le delicate tematiche sulla famiglia, indicate anche nell'instrumento laboris, vissute da cristiani e dalla società in generale, con nuove implicazioni, si sono trasformate in sfide urgenti, veramente urgenti e non eludibili. L'iniziativa di trattarle a livello sinodale non poteva non suscitare interessi, a volte entusiasmo, con reazioni e impatti su ogni settore della società, quindi non soltanto nella Chiesa, ma anche fuori. In particolare gli stessi padri sinodali, portatori delle situazioni concrete, delle famiglie delle rhodiocesi, delle loro regioni, delle conferenze episcopali, loro sono stati quelli che veramente hanno anche stimolato perché ciò fosse trattato a fondo. In questa luce le questioni sulla famiglia vanno ben oltre la visione riduttiva della sola problematica della comunione eucaristica ai divorziati e sposati, come fosse l'immaginario collettivo che i medi hanno focalizzato questi aspetti, che poi è una questione occidentale e la Chiesa non si limita all'Occidente. La Chiesa è universale in tutte le parti del mondo, quindi sono altri problemi molto più cocenti e importanti. Ora, il discorso è molto più ampio, tocca a 360 gradi la famiglia e la società nelle diverse situazioni regionali e continentali del mondo. Di fronte a questa realtà così vasta e allo stesso tempo delicata e piena di implicazioni che interessa l'individuo, la famiglia, la società, l'invito di Papa Francesco a vincere la paura e ad essere pronti a farsi sorprendere da Dio e quanto mai opportuno, direi imperativo, proprio in questo momento, a partire dalla famiglia che è la cellula della società e per i cristiani e la Chiesa domestica. Il Papa ci sprona a non aver paura delle sorprese di Dio, l'ha ripetuto tante volte, lui non ha paura, dice il Papa, della novità. È per questo che ci sorprende di continuo, aprendoci, guidandoci su sentieri imprevisti. Ci rinnova, cioè ci fa nuovi in continuazione. Un cristiano che vive il Vangelo e la novità di Dio nella Chiesa e nel mondo. È lì che risiede la nostra vera forza, il fermento che fa lievitare e il sale che dà sapore ad ogni sforzo umano. E allora qui io inizio, scusate sarò un po' lungo, ma dovrò trattare un pochino anche i vari punti, sempre della terza parte di questo documento della relazione, non la prima, la seconda, la terza. In questo contesto la Chiesa avverte la necessità di dire una parola di verità e di speranza. Occorre una riflessione sui grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana e in un tempo segnato dall'individualismo e dall'edonismo. Io sto citando qui il numero 11 della relazione e che è nella prima, diciamo, nell'introduzione addirittura, numero 11. Queste parole nell'introduzione sono ben pertinenti per aprire tutta la terza parte, questa di cui sto parlando. Nella recente catechesi dello scorso 17 dicembre, Papa Francesco, indicando il ruolo della famiglia nella Chiesa, riferendosi a Maria e Giuseppe che formarono una famiglia vera, dice lui, con difficoltà di tutte le famiglie, ha preferito queste parole e ve le cito. Facciamo spazio nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero anche Maria e Giuseppe. Non fu facile. Quante difficoltà dovettero superare? Non era una famiglia finta. È il Papa che parla così. Non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazareth si impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. A proposito della vocazione e la missione della famiglia è proprio il tema, diciamo, riassuntivo finale di questo percorso sinodale. Allora vi spiego subito che noi abbiamo cominciato con la prima tappa che aveva un titolo, che aveva cioè un tema, le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Il tema della seconda tappa è proprio questo, è la vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. In fondo noi ci siamo preparati con la prima tappa a questo tema che riassume tutto quello che noi stiamo studiando e che stiamo riflettendo. E questo è il tema finale di questa esperienza sinodale un po' sui generi, si nuova. E il Papa già, non solo è stato annunciato ufficialmente, ma il Papa lo riprende questo, proprio in questo discorso il 17 dicembre, appena qualche giorno fa che ha parlato, ha detto questo. Quindi la famiglia di Nazareth ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia. Di ogni famiglia, dice addirittura. E come accade, continua il Papa, in quei trent'anni a Nazareth, così può accadere anche per noi. Far diventare normale l'amore e non l'odio. Far diventare comune l'aiuto vicendevole e non l'indifferenza o l'inimicizia. E questa è la grande missione della famiglia. Fare posto a Gesù che viene, accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni. Gesù è lì. Accoglierlo lì perché cresca spiritualmente in quella famiglia. Queste sono le parole del Papa. Ecco, quanto a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, il Santo Padre ha detto tanto, ma ha continuato, è ancora più esplicito nel discorso che ha pronunciato in occasione della preparazione dell'ottava giornata mondiale delle famiglie. E' venuto qui Monsignor Paglia e vi ha spiegato che ci sarà la giornata mondiale delle famiglie, che è proprio una settimana prima dell'inizio del sinodo. Ecco. E il Papa ha, diciamo, inviato appunto un messaggio, un messaggio, già qualche giorno fa, indirizzato a Monsignor Paglia, che è il presidente del Consiglio per la Famiglia, e dice così «La missione della famiglia cristiana oggi, come ieri, è quella di annunciare al mondo con la forza del sacramento annunziale, l'amore di Dio». Sacramento, l'avete studiato in questi giorni. A partire da questo stesso annuncio nasce e si costruisce una famiglia viva che pone il focolare dell'amore al centro di tutto il suo dinamismo umano e spirituale. Anche una famiglia che con la grazia del Signore vive in pienezza la propria vocazione e missione, gli rende gloria. Abbiamo recentemente, ecco il Papa lo dice, abbiamo recentemente celebrato l'assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulle sfide pastorali e sulla famiglia del contesto dell'evangelizzazione. Nel segno della sinodalità abbiamo individuato le tematiche più urgenti che coinvolgono la famiglia nella nostra società plurale. Lui ritorna lui stesso. E qui naturalmente parla ancora dei valori, le virtù della famiglia come verità essenziali, punti di forza su cui poggia il nucleo familiare e non possono essere messi in discussione. Siamo chiamati, ancora dice, a rivedere il nostro stile di vita che è sempre esposto al rischio di venire contagiato da una mentalità moderna, individualista, consumista, etonista e ritrovare sempre di nuovo una strada maestra per vivere e proporre la grandezza e la bellezza del matrimonio e la gioia di essere e di fare famiglia. Insomma, conclude, dice, le sfide di tale contesto ci stimolano ad allargare gli spazi dell'amore fedele, aperto alla vita, alla comunione, alla misericordia, alla condivisione e alla solidarietà. E dunque l'annuncio del Vangelo della famiglia che costituisce un'urgenza per la nuova evangelizzazione, dice la Relazio al numero 29, e ora comincio a parlarne, e dice ancora, evangelizzare è responsabilità di tutto il popolo di Dio. Le famiglie cattoliche in forza della grazia del sacramento annunziale sono chiamate ad essere esse stesse o soggetti attivi della pastorale familiare. Quindi, ecco, quest'aspetto soggettivo è veramente importante, come l'aspetto di soggetto, non l'aspetto di soggetto, non di oggetto. L'annuncio non deve essere meramente teorico, dice ancora la Relazio al numero 32, teorico, è sganciato dai problemi reali delle persone, senza dimenticare altrimenti che la crisi della fede ha comportato una crisi del matrimonio della famiglia e come conseguenza si è interrotta spesso la trasmissione della fede dai genitori ai figli, esigendo altresì un linguaggio rinnovato perché risulti effettivo. E oltre ad essere un annuncio, ecco qua, il matrimonio cristiano è una vocazione che si accoglie con un'adeguata preparazione in un itinerario di fede. Pertanto la Relazio ricorda di realizzare percorsi di accompagnamento alle persone, alle coppie, in modo che alla comunicazione dei contenuti della fede si unisca l'esperienza di vita vissuta. Di conseguenza è necessario un radicale rinnovamento della prassi pastorale. È un maggiore coinvolgimento dell'intera comunità, privilegiando la testimonianza delle famiglie con programmi specifici per la preparazione prossima al matrimonio che siano vera esperienza di partecipazione alla vita ecclesiale. Poiché, e qui continua il documento al numero 40, poiché i primi anni di matrimonio sono un periodo vitale e delicato, corre qui l'esigenza di un accompagnamento pastorale che continui dopo la celebrazione del sacramento, del matrimonio. Risulta di grande rilevanza in questa pastorale la presenza, e questo voi siete i primi a essere impegnati, la presenza di coppie di sposi con esperienza, con esperienza, anche per introdurre all'importanza della spiritualità familiare. Quindi avete un compito preciso, ecco la missione, non è la vocazione, ma è la missione. Quindi non sono solo i sacerdoti o i biscovi che si devono occupare, siete voi stessi, con la vostra testimonianza, già lo fate, ma qui bisogna fare un passo in più e coinvolgere di più persone, eccetera. Quindi l'accompagnamento non deve essere solo come preparazione, ma anche accompagnarlo dopo il matrimonio. Perché ci sono le crisi matrimoniali, ora sapete, addirittura si determinano i tempi anche, il quinto anno, il settimo, il diegimo, tutte queste cose che voi conoscete bene a memoria. Allora lì è il lavoro che le sposi, le coppie formate, che vivono veramente il matrimonio e la famiglia, possono dare il contributo. A riguardo di questi punti elencati, nel lineamento che sono stati inviati alle conferenze episcopali, poi ve ne parlerò meglio dopo, e alle chiese orientali e altri aventi diritto, sono state poste domande. E io qui ho delle domande, soltanto voglio dire questo, che vi è stata una riunione speciale con la Presidenza del Santo Padre, proprio nella sede del Sinodo dei Vescovi, in via della Conciliazione numero 34, dove c'è stata una riunione speciale dei membri del Sinodo, dei membri di segreteria del Sinodo. Sono 15 persone. Queste persone, secondo gli statuti, sono le persone che sono state elette nell'ultimo Sinodo, non questo recente, perché è il primo percorso, ma quello di prima, nel 2012, c'è stato un Sinodo sulla parola di Dio, e lì, come è, diciamo, Prassi, i padri sinodali scelgono 12 persone, 12, diventano 15 perché i tre sono aggiunti dal Papa, il Papa poi ne aggiunge tre di sua nomina, diventano 12, eletti dai padri, perché hanno il compito, insieme alla Segreteria Generale del Sinodo, di attuare, di rendere in atto le direttive del Sinodo che si è concluso. E allora, ecco, da un punto di vista, diciamo, anche cronologico, posso dirvi questo, che nella prima fase di cui ho parlato prima, che si è conclusa poi con il Sinodo dell'ottobre scorso, l'assemblea, ci sono state una, due, tre, tre riunioni di questo tipo. Ora, inizia la seconda tappa e c'è stata la prima riunione della seconda tappa. e di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato naturalmente della relaziosino, di quello che è accaduto nell'ultimo Sinodo straordinario. Sono gli stessi membri, quelli di prima e quelli dopo. Il Papa addirittura ha anche confermato il relatore generale, per il prossimo Sinodo, confermato, vuol dire quello precedente, confermato il relatore generale, ha confermato il il segretario speciale, il relatore generale, il cardinale Erdù, arcivescovo di Budapest, il segretario speciale, il consiglio Forte, arcivescovo di Chieti, poi ha confermato anche i tre presidenti delegati e ne ha aggiunto un quarto. Quindi sono quattro i presidenti delegati. Cioè, quando c'è la celebrazione del Sinodo, chi presiede naturalmente è il Papa. E è lui il presidente. Però non può lui naturalmente occuparsi dell'Assemblea. Lui ascolta, interviene se vuole. C'è il segretario generale che è l'organizzatore, che è quello che deve far quadrare i tempi, deve intervenire perché tutto vada bene, eccetera. Poi c'è un presidente delegato che dirige, come il moderatore, se vogliamo, che dirige, diciamo, l'Assemblea. E fanno a turno. Erano tre, ora c'è un quarto. Per poter anche, diciamo, essere più rappresentativi. Mancava, infatti, l'Africa. Avevamo omesso questo scontinente. Allora il Papa subito ha detto non ne moriamo quattro. Quindi sono stati, questo per dirvi come funziona, perché pure questo dovete conoscere. Altrimenti, allora c'è stata questa riunione e in questa riunione la segretaria generale aveva preparato naturalmente uno schema di come iniziare questa nuova tappa. Si inizia con un lineamento, cioè un documento preparatorio. ma questa volta aveva una connotazione speciale perché non era dal nulla. Non è che si cominciava un nuovo discorso, un tema. L'avevamo già cominciato un anno fa. C'è stato tutto un procedimento. Allora, che cosa è stato fatto? È stato preso il documento della relazione sinodi come base. Questi sono i lineamenti. E infatti, poi ve lo dirò qua, il Papa stesso ha detto questo. E poi sono state aggiunte delle domande. Delle domande perché sulla base del documento ci fosse un approfondimento e un allargamento e quindi ad ampliare ancora di più alla base le reazioni e a vedere che cosa si può dire di più di quello che è stato detto. Perché dobbiamo dire di più. E molto di più, anzi. Ne sono stati presentate tutte le tematiche ma ce ne sono alcune molto più sensibili di altre e così via. Quindi dobbiamo approfondirle molto di più. Allora, queste domande si trovano naturalmente nel documento che poi io vi farò vedere e che già qui il Vescovo di Monsignor Magalli mi ha detto sarebbe bene di avere anche un libretto da poter distribuire. Noi cercheremo di fare questo a più presto in maniera che lo può spostare. Comunque si trova nel sito. Nel sito lo potete scaricare. Nel sito del sinodo dei Vescovi. Ecco, il sinodo lo potete trovare. Allora, dato che ho già parlato di questo, vorrei ecco dirvi che si trovano sul questo tema della preparazione dell'accompagnamento delle coppie o dei numendi e che dei numendi e delle coppie poi quando si sono sposate. Noi abbiamo formulato delle domande. per esempio come questa sia nella preparazione che nell'accompagnamento dei primi anni di vita matrimoniale viene adeguatamente valorizzato l'importante contributo di testimonianza e di sostegno che possono dare famiglie associazioni e movimenti familiari. Quali esperienze positive possono essere riportate in questo campo? L'altra la pastorale di accompagnamento delle coppie nei primi anni di vita familiare è stato osservato nel dibattito sinodale. ha bisogno di ulteriore sviluppo quali le iniziative più significative già realizzate cioè noi vogliamo conoscere le iniziative già iniziative nelle varie diocesi in maniera da proporle e generalizzarle cioè dire che ci sono queste iniziative precise e tenere conto. Ecco passiamo ora ai temi sensibili e la cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio civile o in convivenze al numero 41 della relazio sinodì si legge è importante entrare in dialogo pastorale dialogo pastorale con tali persone al fine di evidenziare gli elementi della loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza e continuo dicendo di cogliere gli elementi positivi presenti nei matrimoni civili e fatte le debite differenze nelle convivenze pur affermando con chiarezza il messaggio cristiano e quindi l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e la famiglia. Su queste due situazioni sono interessanti le domande proposte per le conferenze episcopali circa i criteri di discernimento e di coinvolgimento pastorale tenuti presenti gli elementi costitutivi della matrimonio l'unità l'indissolubilità e l'apertura alla vita e allo stesso tempo le situazioni concrete dovute a molteplici fattori culturali ed economici prassi radicate nella tradizione difficoltà dei giovani per scelte che impegnano per tutta la vita. Nelle domande e poi io leggerò nelle domande ci si riferisce anche a diverse situazioni che variano secondo le regioni del mondo in molti paesi si registra un crescente numero di coppie che convivono ad esperimentum senza alcun matrimonio né canonico né civile in alcuni paesi vige il matrimonio tradizionale che si celebra in diverse tappe e questo è in Africa è molto corrente e in altri il fenomeno di celebrarli in chiesa dopo aver vissuto insieme per lungo tempo io sono stato in Africa come segretario rinunciatura in Zimbabwe mi sono trovato nelle parrocchie dove si celebravano 20, 25, 30 matrimoni tutti insieme con i bambini e tutto erano matrimoni in chiesa hanno fatto un percorso erano naturalmente uniti in maniera diciamo naturale oppure tradizionale e poi pian piano sono arrivati e si sono sposati in chiesa quindi vedete le diversità di culture e di tradizioni le convivenze si diversificano secondo le diverse concezioni della vita la mentalità del provvisorio l'attesa della sicurezza economica la vera e propria miseria materiale il rigetto poi anche dei valori della famiglia e del matrimonio questo viene numerato nel numero 42 genizuela in canio nel numero 42 del documento la pastorale ha molto da fare in questo campo si tratta di un cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo da accompagnare con pazienza e delicatezza le domande sono queste quali criteri per un corretto discernimento pastorale delle singole situazioni vanno considerati alla luce dell'insegnamento della chiesa per cui gli elementi costitutivi del matrimonio sono l'unità l'indissibilità e l'apertura alla procreazione la comunità cristiana è in grado di essere pastoralmente coinvolta in queste situazioni come aiuta a discernere questi elementi positivi e quelli negativi della vita di persone unite in matrimonio civile in maniera da orientarle e sostenerle nel cammino di crescita di conversione verso il sacramento del matrimonio come aiutare chi vive nelle convivenze a decidersi per il matrimonio in maniera particolare quali risposte dare alle problematiche poste dal permanere delle forme tradizionali di matrimonio a tappe o combinato tra famiglie qui siamo già fuori tempo allora chiuso vi mando il messaggio vi mando il testo però alla fine voglio dire soltanto questo scusate ma potremmo potuto parlare molto di più è chiaro pazienza soltanto vorrei dire ancora due o tre minuti quello che forse a voi interessa ecco quello che era il tema che se ne parla così tanto famiglie ferite quindi le scelte pastorali il Papa parla di scelte pastorali coraggiosi su questi temi quindi l'arte dell'accompagnamento eccetera poi c'è il primo tema riguardo a rendere più agili accessibili le procedure per il riconoscimento di casi di nullità avete conoscete tutta questa problematica benissimo lì c'è una commissione apposta che il Papa ha istituito perché tratti di questo tema per rendere più agili più e anche di dare più autorità ai vescovi in questo tema non centralizzare troppo ma dare anche autorità al vescovo che risolva in piano diciamo nella diocesi i casi naturalmente ci sono varie vie c'è la via giudiziaria extra giudiziaria poi si parla anche di una via penitenziale che è in studio perché all'inizio ritornando indietro nei secoli noi troviamo che all'inizio nei primi tre quattro secoli questa via penitenziale era molto forte e era attuata in quel tempo perché non riprendere anche questo naturalmente questa prassi questa maniera poi vorrei dire riguardo riguardo alla comunione dei divorziati e dei risposati voi dovete leggere con attenzione il numero 52 il numero 52 della relazio sinode lì c'è la prospettiva chiara tenete presente che il numero 52 come il 53 e il numero 55 50 sì 55 hanno avuto un'approvazione un'approvazione di maggioranza assoluta non qualificata dei due terzi e il Papa ha detto dobbiamo ancora studiare questi temi vi voglio dire anche una cosa che è interessante che il Santo Padre ha detto tante volte che nel passato e lui è stato diciamo direttamente interessato quando c'era una problematica di questo tipo e che non c'era il consenso che superava almeno i due terzi era un tema che si scartava dice questo non se ne parla forse dice beh se ne parlerà fra dieci anni quindici anni vent'anni non si sa e questo il Papa ha detto no bisogna parlarne subito se noi non abbiamo non abbiamo siamo arrivati a trovare una soluzione dobbiamo trovarla dobbiamo metterci insieme allora io tante volte dico com'è possibile che noi in due anni non riusciamo a dire tutto quello che è necessario sulla famiglia quando il concilio Vaticano II in tre anni ha parlato di tutto e ci ha dato delle cose delle cose stupende proprio quasi senza rotture ma di continuità e beh e noi non siamo capaci di fare questo lo dobbiamo fare cioè i cervelli bisogna metterli insieme e lì andare a fondo andare a fondo certe cose guardi quando si dice erano impensabili io sono già dell'antico testamento quindi cioè io ricordo benissimo ricordo benissimo io ero appena ero studente io sono stato ordinato nel 63 in pieno concilio in mezzo quindi formato con un vecchio sistema nuovo e mi sono dato conto che c'erano cose che potevano essere e che erano credute come quasi impossibili a mutare e invece sono state mutate nella continuità senza rompere diciamo la tradizione senza rompere la dottrina è questo che dobbiamo noi riuscire a fare ve lo dico con forza perché effettivamente lo credo e il Papa vede queste cose io ne sono non solo convinto ma divento un portavoce poi è chiaro che sono detto ecco questo volevo dirvi leggetelo con attenzione ci sono veramente delle posizioni di apertura di studio così anche quello che riguarda quello che riguarda la comunione spirituale la comunione sacramentale anche questo deve essere studiato più a fondo perché qualcuno ha detto se io sono in comunione con Dio perché ho chiesto perdono dei miei peccati ci sono con Dio o non ci sono e questo è il fatto allora la comunione io sono già in comunione ma c'è la comunione sacramentale ma che differenza c'è tra quella spirituale e quella sacramentale c'è un passaggio in più effettivamente perché attraverso il sacramento che Dio agisce non c'è dubbio però non sono in contraddizione le due cose e allora lì il punto è vedere effettivamente c'è una questione di fuori interno di fuori esterno la mediazione della chiesa se voi pensate che il 37% dell'umanità è cristiana perché è stata battezzata e gli altri 67% dove vanno a finire ecco questo che io me lo domando questi si salvano o non si salvano se seguono si salvano quindi vuol dire che il Dio ha dei percorsi e noi dobbiamo scoprirli questi percorsi in quanto è possibile la nostra diciamo conoscenza scoprirli e allora ecco perché dobbiamo studiare di più pregare 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 molto allora la conclusione è questa basta basta che non parlo più la conclusione è questa la richiesta attenzione la richiesta della segreteria generale del sinodo con l'invio del lineamento 46 domande è quella di ottenere una risposta circa la recezione del documento dell'ultima sise e l'approfondimento dei temi più sensibili specialmente quelli contenuti nei paragrafi che non sono stati approvati secondo diciamo gli schemi e gli statuti questo che ci interessa con la luce e l'aiuto dello Spirito Santo grazie 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 grazie